Quello sulla sanità privata, io ritengo che la disorganizzazione e l'inefficienza del pubblico, che non è colpa del pubblico ma è che l'abbiamo lasciato andare un attimino in uno stato del genere, ecco permettano al privato di avere ancora più potere sulla sanità regionale. Il privato in questo caso gioca.